Buon lavoro anche al terzo arbitro, la sigla numero 13, Tony James De Falco. Libero con il numero 11, Marco Rizzo. Buon lavoro al mister Valerio Valdomin e al suo assistente Francesco Guarnieri. Ed ora stati i players, chi è? Nel numero 18, Andrea Canella. Con il numero 9, Juan Cech, Giulia Nasconi, con un'azienda. Libero con il numero 3, Mattia Contando. Pronti a partire? Si comincia. Pronti a partire? Quanto altro? Non so che non si accetta. Non l'aiuto in giocatori. Tipo gli ultimi giorni di scuola quando si potevano andare a scuola. Esatto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.